Siamo a buon punto, siamo riusciti a garantire la sicurezza nel paese, le strade sono tutte aperte perché abbiamo visto alcuni alberi che hanno interrotto il flusso dei veicoli, l'energia elettrica è tornata in tutte le abitazioni, credo che questo sia un altro gesto importante per far ripartire il tutto. E diciamo che stiamo lottando contro il tempo per poter garantire ai tanti turisti che ancora affollano le nostre spiagge una vacanza da sogno. Ecco, i danni sono tanti, però gli operatori hanno detto di potersi rialzare ed essere pronti anche per il prossimo fine settimana, tempo permettendo. Rialzare vuol dire che si sono messi giù, non sono stati neanche minimamente piegati perché hanno dimostrato una grande forza, una grande energia, una grande capacità di reazione, soprattutto il piano d'emergenza ha funzionato benissimo, tanto che posso affermare con onore che già da domani quasi tutte le strutture, il 90% delle strutture saranno funzionanti e la vita di questa località turistica riprenderà a pieno ritmo. Ecco, vuole lanciare un appello anche ai turisti, a chi è arrivato nella rivera del Conero per un'estate abbastanza particolare, maggio molto piovoso, giugno partito un po' in sordina, insomma un'estate davvero difficile. Giugno è stato molto positivo, molto, non è partito in sordina, maggio ovviamente il maltempo ci ha danneggiato, non ci voleva questa tromba d'aria, ma a Numana per il grande rispetto che ha dei turisti si è rimboccata le maniche, stiamo lottando contro il tempo e vi invitiamo tutti a Numana perché siamo pronti ad accogliervi e a farvi provare sempre le più grandi emozioni che si possano avere in campo turistico.